Mister, sapevamo che sarebbe stato difficile, oggi gara giocata bene ancora e manca ancora qualcosina. Sì, che sappiamo che è difficile dobbiamo saperlo, non solo saperlo ma anche metterlo in campo. Oggi nella prima mezz'ora siamo stati una squadra passiva, una squadra passiva sia come aggressività, passiva sia come nel proporre gioco, siamo stati un po' troppo in balia del Sud Tirol. Poi di positivo sicuramente c'è stata una reazione importante, una reazione nel secondo tempo che ci ha visto vicini al gol del pareggio e poi quello che dobbiamo cercare di fare è rimanere in partita tutta la gara fino alla fine, rimanendo comunque equilibrati. Abbiamo subito il gol del 2-0, che ha chiuso la partita, che ci ha tagliato le gambe. Potevamo magari avere ancora 10-15 minuti per poterla riprendere la partita, anche perché comunque sembrava nel secondo tempo che prima o poi il gol poteva arrivare. Ripartiamo da questo secondo tempo a testa bassa in vista di Ascoli e Palermo. Sì, ma sapevamo che il calendario era un calendario difficile e complicato, sulla carta avversarie e tre trasferte su quattro impegnative, però dobbiamo riuscire ad entrare nella mentalità di questa categoria dove il livello è molto più alto rispetto alla Lega Pro, dove non si può regalare niente sotto l'aspetto fisico e mentale agli avversari e dove dobbiamo cercare di fare quello che lavoriamo e quello che prepariamo durante la settimana. La delusione oggi è quella di non aver giocato parte del primo tempo e invece ancora come a Parma la certezza e la sicurezza che se si fanno le cose con una certa intensità e si fanno le robe che proviamo durante la settimana siamo competitivi anche con le squadre più forti.